Presso la Scuola Media di Berceto abbiamo dedicato un paio di ore ad una riflessione importante insieme ai volontari della Croce Rossa. I volontari infatti sono venuti, ci hanno portato del materiale su cui riflettere, sulle loro attività anche nel resto del mondo e sulla loro attività di volontari. Tutto questo perché a scuola vogliamo far vedere e far capire ai ragazzi quanto è importante saper usare un defibrillatore e come è importante anche saper fare un massaggio cardiaco, in quanto in ogni momento della nostra vita anche un ragazzo giovane, molto giovane come li abbiamo noi nelle nostre classi può essere chiamato ad un'opera di salvataggio importante. Il Comune ha fornito la scuola di un defibrillatore così come tutto il territorio più o meno è coperto con una vasta rete di defibrillatori perché ce ne sono diversi presso le auto e le ambulanze della Croce Rossa, c'è in piazza, nella piazza principale a Berceto, ce l'abbiamo a scuola, a Ghiare e ci sono altre frazioni che si stanno attrezzando per il loro acquisto. Quindi c'è sempre l'atto importante anche noi come scuola, far partecipare i ragazzi e fare buon utilizzo dell'esperienza dei volontari della Croce Rossa per imparare e eventualmente, noi non glielo auguriamo però, eventualmente nel corso della propria vita, riuscire ad aiutare qualcuno in difficoltà. I ragazzi hanno naturalmente partecipato con interesse e vivacità e curiosità anche a questa nostra riunione. Già l'anno scorso è stata fatta una lezione sul massaggio cardiaco quindi tenerli allenati, tenerli sempre pronti, significa avere delle forze nuove sul territorio molto importanti e magari speriamo anche che possano diventare dei volontari della Croce Rossa.